Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio, oggi siamo il 9 febbraio, ore 11.45, come al solito un tema scottante da Opinione di Luzio, una visione del tutto nuova che non hanno calcato i nostri palinsesti televisivi. Ebbene sì, vi voglio portare alla cronaca quello che è successo a un signore inglese che naturalmente fino a pochi mesi fa viveva nel mondo della politica, in cui grazie ai gossip nel 2010 per colpa della moglie che ha dichiarato che la multa per l'eccesso di velocità l'aveva presa al marito e lei aveva detto una falsità davanti alla polizia, ha dichiarato il falso, lui si era tolto dall'incarico dal governo, però in attesa di condanna il partito l'ha tenuto ed è rimasto nel Parlamento. Oggi, a distanza di meno di tre anni, da quel 2010, l'hanno radiato dal partito e si è tolto dal Parlamento, ha dovuto le sue dimissioni definitive e abbandonando definitivamente la classe politica, la vita politica. Il tutto per un autovelox, per tre punti su di velocità, è stato condannato per 6 mesi, che poi in realtà non si farà manco un giorno di galera naturalmente e si è tolto, perché in Inghilterra, anche se c'è una monarchia e non c'è una repubblica come da noi, ha un sentore di democrazia molto più alto del nostro, perché da noi i condannati fanno piene le liste elettorali di quelle che noi adesso andremo a leggere nel momento in cui ci presenteremo alle urne. Da Scilipoti a quanti altri, nel Berlusconi, nelle liste di Ingroia o nelle liste di qualsiasi partito abbiamo gente in attesa di condanna o già stati condannati tempo addietro e via dicendoci. Questo si fa capire che il nostro classe politica è una medaglia d'onore essere andati a calcare i tribunali di giustizia per corruzione, per associazione a delinquere, per quant'altro, per aver rubato soldi pubblici, per finanziamenti personali. Adesso non voglio fare l'elenco di tutti, che non serve a niente e mi sembra che anche io dopo vado a calcare la solita demagogia. Ma quello che vi torno a ripetere è di come la nostra classe politica non si è mai svernata da quello che è stato in realtà a livello storico. Sempre una classe politica che governa con le compiacenze, con i compromessi, con la situazione di voler calcare interessi personali nel voler quella poltrona, a differenza di quanto accade in altri paesi fuori da noi, che logicamente si semine altro. Almeno un parvento che se una persona pulita o che comunque sia non porti avanti l'interesse personale vedendo quello che è il dovere pubblico in primis in quanto fai politica e quindi in quanto politica ti devi dire a collare i problemi della gente, non i problemi tuoi, perché i problemi tuoi vai da uno psicologo, non si va in Parlamento a prendere 20 mila Euro al mese per i problemi personali. E veramente io mi rifiuto ancora di vedere questa classe politica governante che faccia tutto ciò agli occhi della gente e spendersi come con i soliti slogan, promesse del cavolo, c'è chi fa gli inciuci ancora a livello programmatico, con le belle parole, naturalmente, per accogliersi la sua fetta di pubblico, è naturalmente molto meno convincente. E c'è chi invece, come al solito, da Maroni restituiamo il 75% delle tasse alla regione Lombardia, a Berlusconi toglie l'Imu, a quell'altro diamo il condono, a quell'altro ancora diamo la ministria, così con questi bei slogan la gente, come al solito, che fa? Mi toglie la ministria, capisce al volo quello che fa, ok? Ci crede perché siamo un paese di allocchi, altrimenti crediamo alle panzanate, logicamente, e quindi vanno a votare, questo è un po' come quando ci portano in referendum o quant'altro, ci premero sempre in giro. Allora voi vi domandate che fare? Allora che fare? Vedete voi con voi stessi, insomma. Scegliete ciò che non scelgono, insomma. Ok, ragazzi, arrivederci, siamo sempre a Senigallia, c'è anche un po' di neve, ragazzi. Salve a tutti, voglio che argomentate questo commento e fatelo girare. Arrivederci, sempre allo pieno di luci.